Ehi, rieccoci. Oggi dedichiamo l'approfondimento principale a un report del New York Times che ci racconta delle condizioni detentive delle persone a Guantanamo, Cuba. Ma non dei terroristi, dei migranti, ed è una storia che come al solito finisce per parlare di noi. Prima dobbiamo però spendere qualche minuto su quello che sta succedendo all'interno di Telegram, perché in seguito all'arresto del suo fondatore, Pavel Durov, l'approccio della piattaforma riguardo la collaborazione con le forze dell'ordine è drasticamente e improvvisamente cambiato. Ora, sull'intera situazione che ha coinvolto Durov abbiamo fatto un approfondimento tempo fa, vi lascio tra le fonti il link per recuperare la puntata, ma giusto per capirci. A fine agosto Durov è stato fermato dalle autorità francesi e poi formalmente incriminato per vari capi d'accusa, tra cui complicità nella diffusione di materiale pedopornografico, riciclaggio, frode, e soprattutto, che poi è il punto principale, mancata collaborazione con le autorità in quei casi in cui Telegram era sì usato in maniera criminosa, ma i dati dei sospettati non venivano condivisi a seguito delle indagini, cosa che, secondo l'accusa, avrebbe reso Durov complice di quei crimini. Il punto, infatti, è che Telegram, che non modera le chat private e i gruppi, è ovviamente uno degli snodi principali e più semplici per organizzare attività illegali, o che banalmente richiedano un certo tipo di riservatezza. È molto utilizzato nelle comunicazioni militari russe, ad esempio, o per la diffusione di materiali illegali, e benché Durov sia poi stato rilasciato, in seguito a una cauzione enorme, 5 milioni di euro, le accuse a suo carico rimangono, e non può al momento lasciare la Francia, cosa che aiuta a dare contesto a quello che è accaduto ieri, quando lo stesso Durov, tramite il suo canale Telegram, ha annunciato alcuni cambi molto radicali nel funzionamento della piattaforma. Il primo riguarda la ricerca interna. Se prima era, infatti, molto facile usare una determinata parola chiave e trovare decine di gruppi sui quali, ad esempio, le persone vendessero la droga, giusto per citare una tra le problematiche, adesso sembra che la ricerca sia stata rivista, anche tramite l'uso di intelligenza artificiale, in modo da filtrare i termini più problematici e renderli meno accessibili, anche se è, ad esempio, ancora semplicissimo trovare contenuti piratati, ad esempio, come ebook e simili. Quindi si è un po' messo un argine, ma con entusiasmo che arriva fino a pagina 2. Il cambio più importante, però, quello che ha portato il tutto a essere una notizia, di fatto, è l'annuncio, da parte di Durov, di come Telegram, d'ora in poi, potrà rivelare gli indirizzi IP e i numeri di telefono degli utenti, nel caso le richieste da parte delle autorità siano appropriate e i responsabili abbiano violato i termini di servizio della piattaforma, che sono stati prontamente aggiornati insieme alla normativa sulla privacy. E questo dettaglio è fondamentale, perché era tutto lì. È nell'identità della persona la questione, perché sinché puoi operare in totale anonimato, perché sì, per registrarti magari devi mettere il tuo numero di telefono, ma tanto quel telefono non lo conosce nessuno, a parte Telegram, che non lo dà a nessuno, è un discorso. Mentre se i dei dati che diventano identificativi della persona, che permettono alle autorità di risalire a te, vengono in qualche caso comunicati alle autorità, e allora cambia tutto. Ma cambia proprio Telegram. Ora, mi sembra evidente che la riflessione in questo caso sia abbastanza scontata. Il punto del contenzioso legale intorno a Durov ruota proprio attorno all'approccio estremamente lasco che Telegram ha avuto negli anni con la moderazione. E per quanto sia sbagliato associare la piattaforma al suo fondatore, è chiaro che la scelta di collaborare con le autorità non nasca nel vuoto, e sia, per forza di cose, non tanto un arresa da parte di Durov, che è un modo un po' semplicistico di vedere la cosa, se vogliamo, quanto piuttosto un riconoscimento della serietà, sia delle accuse che delle prospettive future che lo aspettano, o aspettavano. Perché realisticamente questo cambio si inserisce, forse, non lo sappiamo, in un possibile accordo, che è probabile stia venendo preparato dietro le quinte, e che magari vedrà Durov, sì, venire condannato, una multa milionaria magari, che però non preveda soggiorni in carcere. Per dire, sono delle ipotesi, sono delle ipotesi, è una roba che io mi sto totalmente in vendita, non ho da informazioni su questo, però è realistico, io penso che sia realistico. Al di là delle speculazioni, comunque, quello che è certo è che non è cambiata la problematicità insita nell'associare a chi fornisce un servizio la responsabilità dei crimini commessi tramite il suo uso, perché questo rimane comunque un precedente terribile, e soprattutto abusabile, cosa che poi ci pone di fronte a un'altra questione ancora, ovvero il peso che uno Stato-Nazione può esercitare su realtà che spesso sembrano intoccabili, come grandi aziende e social network. Per dire, lo stesso Elon Musk, un personaggio ancora più ingombrante di Duroff, ha dovuto arrendersi alle richieste della Corte Suprema brasiliana che avevano portato al blocco di X nel paese. E questo perché, evidentemente, il peso di quello scontro economico, legale, ma anche reputazionale, è ancora molto sbilanciato da parte degli stati, ed è un bene, è un bene, attenzione, a nessuno conviene che la direzione vada verso il dominio delle multinazionali in stile cyberpunk. Ma non facciamo neanche l'errore di trascurare il fatto che questo equilibrio è in costante mutamento. Una regolamentazione può diventare molto in fretta a una censura, e il caso di Telegram va osservato molto da vicino. Anzi, andrà osservato molto da vicino, soprattutto in futuro. Piccola cosa, chi segue da un po' di tempo Breaking Italy saprà che sono sempre molto attento ai commenti e ai feedback che mi mandate, e anche molto felice quando leggo che avete provato Uno Bravo, sponsor di questa puntata, e ormai il nostro partner da molto tempo. Specie se Uno Bravo avesse fatto una delle cose per cui è congegnato, cioè permettere di superare lo scoglio iniziale rappresentato dall'affacciarsi a un percorso di terapia. Vuoi per lo stigma, vuoi per la diffidenza, per mille altre ragioni. Uno Bravo è un servizio di psicologia online con oltre 6500 professionisti selezionati accuratamente, a cui potete rivolgervi in base alle vostre esigenze e alle vostre preferenze. Aspetto evidentemente fondamentale qualora decideste di intraprendere un percorso di terapia, godendo al contempo di tutti i vantaggi che Uno Bravo può offrirvi. Gestite comodamente gli orari degli appuntamenti, fate le sedute da remoto, da casa, dall'ufficio, dal parco, da dove volete voi, e godete anche di prezzi vantaggiosi rispetto ai costi medi per quanto riguarda questo tipo di servizio. Insomma, Uno Bravo sta molto rivoluzionando quello che ritengo essere un aspetto fondamentale della ricerca del proprio benessere psicologico e quindi prima di andare avanti con le notizie che è una storia da Cuba che voglio raccontarvi, vi rimando al loro questionario che vi aiuterà a essere indirizzati verso il professionista Uno Bravo più affine a voi. Fate conto che il primo incontro è sempre gratuito, quello conoscitivo, e che se usufruite del mio codice a sconto riservato a tutti i nuovi utenti, link in descrizione, sul sito breakingitaly.it ma ve lo metto a schermo, avrete uno sconto del 10% sulle prime tre sedute a pagamento. Quando parliamo della gestione del flusso migratorio da parte degli Stati Uniti, il primo pensiero non può che andare al confine tra USA e Messico, perché lo sappiamo che i numeri di chi attraversa quella parte di territorio sono molto alti. Ma stavolta non ci concentreremo tanto su quell'aspetto, quanto più su una situazione di cui finora si conosceva pochissimo e che solo qualche giorno fa è emersa grazie al New York Times e descrive la condizione dei migranti all'interno del campo di prigionia di Guantanamo, che si trova qui, nell'isola di Cuba. E in generale, anche chi sapesse pochissimo di Guantanamo saprà che, già se la stai citando, c'è un problema, c'è qualcosa di brutto che sta per accadere. Parlare di Guantanamo non è semplice. Si tratta innanzitutto di una base militare statunitense concessa, con molte virgolette, dai cubani come condizione per l'indipendenza dell'isola. È nota sia per la sua prigione militare, aperta nell'ormai lontano 2002 donata dall'amministrazione Bush, che detiene al suo interno terroristi legati direttamente o indirettamente agli attacchi dell'11 settembre 2001, sia per le condizioni in cui questi prigionieri vengono detenuti, in un regime carcerario che viola sistematicamente ogni tipo di diritto. Ricordiamo, ad esempio, la famosa notizia della musica utilizzata come metodo di tortura, il waterboarding. Ci sono tantissime storie che, in qualche modo, si legano a Guantanamo. Oltre ai terroristi, però, nella Baia di Guantanamo arrivano anche i migranti che vengono intercettati prima di approdare nelle coste della Florida. Ed è una situazione che accade, pensate, fin dall'amministrazione di Ronald Reagan, cioè dagli anni Ottanta, impattando, all'epoca perlomeno, soprattutto sui rifugiati che provenivano da Haiti. Ecco, il nocciolo della questione è che tutto questo continua ad avvenire e molti nemmeno lo sanno. E se lo sanno, non importa. Attenzione a questo, infatti. Il tema, in questo momento, non sono i numeri. Non è uno di quei pezzi in cui vi dico guardate le decine di migliaia di migranti nelle tendopoli, i bambini nelle gabbie e via così. Quello accade a sud, al confine, mentre qui, paradossalmente, i numeri sono molto più contenuti. Fate conto che dal 2020 al 2023 sono state soltanto 37 le persone trattenute. Ed è a fronte di questi numeri risibili, se vogliamo, che ci si chiede come mai questi individui vengano tenuti lì, in una situazione di non solo prigionia, ma, nonostante il Dipartimento di Sicurezza Interna degli Stati Uniti, dichiari che i migranti sono tenuti in condizioni idonee con le politiche di assistenza e alloggio, apparentemente sono invece in uno stato di profonda violazione dei diritti umani, perlomeno secondo un'inchiesta condotta dall'IRAP e pubblicata sul New York Times. Ora, Guantanamo è talmente una vergogna che tutti hanno la mente immagini abbastanza raccapriccianti quando si cita il nome della località in riferimento alla famosa prigione, ma quello di cui stiamo parlando non avviene a Camp Delta, che si trova qui, ed è quel luogo al quale tutti pensiamo, ma nel centro delle operazioni per i migranti che si trova dall'altra parte del complesso strutturale di Guantanamo, in cui si svolgono le operazioni di accoglienza, chiamiamole così, di accoglienza, che si distinguono in tre fasi. Dico accoglienza perché, ricordiamolo, non è territorio degli Stati Uniti, non stai accogliendo nessuno, sei in un altro stato, sei in un'altra nazione, è un altro luogo, non è gli Stati Uniti. Nella prima fase i migranti vengono infatti intercettati in mare dalla guardia costiera, responsabile dell'identificazione, e una volta raggiunti le strade per i migranti sono due, e nessuna di queste comporterà mai l'ingresso negli Stati Uniti. Mai. A seguito di un colloquio, infatti, con il servizio di immigrazione e cittadinanza degli Stati Uniti, o vengono rimpatriati subito nel paese da cui tentano di scappare, oppure vengono trattenuti a Guantanamo in attesa di trovare un altro paese che possa ospitarli. No? Una che ricorda qualcosa, perché magari ricorda qualcosa che qualcun altro in Europa sta cercando di fare. Dico. Il New York Times prosegue il racconto su elementi che sono molto interessanti su altri aspetti, a dire il vero, ma un po' fuori fuoco rispetto al perché ci stiamo raccontando tutto questo. Ad esempio, pensate, essendo comunque un luogo sensibile, i migranti vengono ammalettati e bendati in modo da non conoscere il percorso che porta alla struttura ed essere sicuri che non possono lasciarla. ma il punto è che il loro status a Guantanamo non consente di avere una protezione umanitaria di nessun tipo, mai e poi mai e dopo alcune settimane o addirittura mesi avviene quindi un secondo colloquio che non determina lo status di asilo o di rifugiato ma bensì di protetto che significa quindi la scelta di rimanere a Guantanamo nel centro operativo così da godere di questa protezione immagino in caso di pericolo o di non essere protetto e quindi essere reimpatriato. E basta. Il punto è quindi che questa protezione è quello che è cioè l'accettazione di una vita in tutto e per tutto sovrapponibile a quella di un individuo costretto al carcere. L'IRAP nello specifico è riuscito a intervistare alcune persone che hanno vissuto lì tra il 2022 e il 2023 persino alcune intere famiglie hanno vissuto lì e le condizioni sono ben lontane non solo da quelle che dovremmo garantire a individui destinatari di asilo protezione umanitaria ma in generale molto lontane da qualsiasi tipo di dignità umana e non si parla solo della muffa sui muri si parla di danni ai bambini per quanto riguarda l'istruzione la socialità la salute mentale dei bambini. Ora non voglio dilungarmi tantissimo il report è molto interessante ve lo lascio tra le fonti ma è banale dove stiamo andando a parare no? Al fatto che come al solito le retoriche che ci costruiamo attorno all'occidente come luogo di rispetto dei diritti umani di luogo caratterizzato da un'attenzione a certi aspetti della vita umana aspetti che diamo per scontati specie quando paragoniamo questo pezzo di mondo ad altri pezzi di mondo e tendano sempre di più a appoggiarsi su basi non solidissime non solide quanto vorremmo. Il governo britannico non si è inventato nulla con il discorso di portare i migranti in Ruanda impedendo in ogni modo il loro accesso al paese anche quando questi dovessero risultare meritori di assistenza di protezione di quelle tutele che ci vantiamo di garantire agli oppressi e ai perseguitati ma che non è vero noi non vogliamo garantire proprio niente non vogliamo senza andare troppo lontano il nostro paese per volontà della premier Giorgia Meloni mentre Elon Musk elargisce premie e fa i complimenti come migliore cittadina del pianeta vi racconto tra un attimo ha intrapreso la stessa strada stretto dai vincoli europei fortunatamente che bene o male ancora tengono ma comunque i centri in Albania li stiamo facendo spendendo un sacco di soldi senza un reale senso e realisticamente con ancora meno occhi a guardarci dentro rispetto a quanto accade adesso negli altri centri e non sembra importare a nessuno che siano semplici migranti irregolari fuggiaschi perseguitati non fa differenza non fa niente e come al solito non fa niente perché tanto qualcun altro già lo fa e lo fa a quanto pare dagli anni 80 solo che non lo sapevamo eccoci avviati verso la chiusura con le notizie da sapere oggi e adesso vi dico di Elon Musk perché ieri sera a New York Giorgia Meloni ha ricevuto il Global Citizen Award un premio che viene dato a figure e personaggi che si sono distinti per il proprio ruolo nella costruzione e nel miglioramento di un mondo globale che le è stato conferito per il sostegno dimostrato all'Unione Europea e all'Alleanza Atlantica il premio che le è stato consegnato durante la serata di gala dell'Atlantic Council che è un think tank potremmo dire con sede a Washington che promuove i principi dell'atlantismo nel mondo le è infatti stato consegnato niente meno e per ragioni che noi miseri mortali non possiamo comprendere che da Elon Musk l'imprenditore miliardario proprietario di Tesla di SpaceX di mille mila cose che l'ha anche introdotta l'ha presentata agli altri ospiti elogiandone l'autenticità e la sincerità scherzando anche sul fatto che queste cose normalmente non sono qualità tipiche dei politici ma lo sono di Giorgia Meloni ha anche fatto tutto un discorso cercando di dire che Giorgia Meloni è bella dicendo che però è ancora più bella dentro cioè una roba molto Gian Bruno ma cosa ti stai perdendo nel senso Gian Bruno ma che ma che negli anni la serata di gala che si è tenuta ieri e durante la quale Meloni ha anche tenuto un discorso d'accettazione sull'importanza della difesa dei valori occidentali è diventata un evento piuttosto centrale all'interno della più ampia assemblea generale delle Nazioni Unite le cui discussioni sono state inaugurate questa mattina e proseguiranno fino a sabato per poi concludersi lunedì prossimo c'è un tema ovviamente quest'anno l'assemblea si apre in un momento storico particolarmente complicato come ha ricordato anche il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres all'ombra di tre diversi conflitti attualmente in corso in Sudan in Ucraina e nella striscia di Gaza che rendono il panorama attuale uno dei più preoccupanti nell'intera storia delle Nazioni Unite a proposito di minacce all'ordine globale o per lo meno al mondo per come lo abbiamo conosciuto finora il ministero della difesa giapponese ha reso noto che un aereo militare russo ha invaso lo spazio aereo a nord dell'isola di Hokkaido di competenza del Giappone per ben tre volte le autorità del paese hanno anche dichiarato di aver fatto decollare i propri aerei e di aver lanciato diversi radi d'avvertimento dopo che i presidenti segnali via radio erano stati ignorati e di aver presentato attraverso vie diplomatiche ufficiali un reclamo formale al cremlino per far sì che non accada più una simile violazione insomma in ultimo probabilmente lo sapete ma è una notizia notevole che merita di essere citata oltre al fatto che seguiremo con attenzione i prossimi sviluppi di cui vi accennavo giusto ieri proprio mentre il registro è stato raggiunto il quorum di 500.000 firme necessario per depositare il quesito referendario sulla cittadinanza quello proposto da più Europa quello che dovrà succedere adesso è quindi il vaglio della Corte di Cassazione poi della Corte Costituzionale ed eventualmente il referendum vero e proprio a cui però dovranno partecipare perché sia valido il risultato il 50% più uno degli eventi di diritto cosa che rende l'iter di approvazione in ogni caso estremamente complesso e questo era tutto per oggi grazie per aver guardato grazie a uno bravo sponsor di questa mondata nonché partner di Breaking Italy di cui sono particolarmente fiero per ragioni che capite benissimo conoscete benissimo quindi non devo stare qui non devo stare qui a continuare a dare aria a fare questo questo è il gesto che io vado a fare su i social quando c'è la canzone chi mi odia io sono in linea con i giovani io so di cosa parlano i giovani so le cose e i giovani so cosa guardate voi con i vostri ticchi tocchi andate su BreakingItaly.it ci trovate un sacco di cose iscrivetevi al canale fate tutto fate le cose che fanno i giovani si iscrivono ai canali ballano i ticchi tocchi tutto fate tutto fate siete liberi come Z come la generazione Z no? zone praterie no? hm?